Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il Red Resist Cancellitto1, farò la recensione di un film del 1981. Lo spaventa Passeri. Un uomo mentalmente ritardato, malvoluto nella comunità rurale in cui vive, viene giustiziato da alcuni abitanti con una falsa accusa di aggressione verso una bambina. Lo spirito della vendetta verrà dall'oltretomba per punire i veri colpevoli. Il mio voto a questo film è 7, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione e la sceneggiatura, è di genere dell'orrore, la durata è un'ora e 37 minuti, l'attore è J.D. Faye Gilson, bravo attore, nel film anche Charles Durning, Cloud L. Jones, Larry Drake, Tonya Crowe, Josh Lane Brando, Robert F. Lyons. Saluto Samubrina, Citta, Aliciotola, Marcolf, Il Trio Medusa, Michele Tregigliani, Faye Jay, Picchiatore, Bulluni, Van Drago, Kevin, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie.